Una mazzata per le tasche dei cittadini abruzzesi. Il Movimento 5 Stelle bolla così la nuova stangata in arrivo con il regolamento per la compartecipazione sociosanitaria. Uno step, secondo i grillini, non obbligatorio, ma che la Regione sta per compiere per uscire dal commissariamento della Sanità. Assolutamente sì, di nuovo cerchiamo di far pagare i costi dell'uscita dal commissariamento ai cittadini. Introducendo la nuova ISEE con un procedimento che non è legittimo, un ISEE che non è mai stata sperimentata e i cui costi poi andranno a pagare categorie che sono tutto sommato le categorie dei buoni. Si può assolutamente tagliare altrove. Abbiamo finanziato molti enti inutili all'interno della Regione Abruzzo. I soldi necessari a coprire la compartecipazione dalla parte dell'utente o del Comune possono tranquillamente essere trovati dalla Regione. Non devono essere quelli del solo servizio sanitario, ma la compartecipazione non deve necessariamente essere una compartecipazione dell'utente. Un passo, secondo Ranieri, contraddistinto anche da vizi di illegittimità e che andrà a colpire soprattutto le fasce di rendito più deboli. Facciamo un esempio di un disabile solo, senza il supporto familiare, che abbia un ISEE di 15.000 euro. Questo disabile andrà a pagare da un minimo di 400 euro a un massimo di 520 euro, ma il problema dov'è? Uno, che non abbiamo mai sperimentato questa ISEE. Due, che la nuova ISEE prende in considerazione il patrimonio. Ci sono delle famiglie che per una vita accumulano soldi per dare una sicurezza ai propri figli, figli che sono naturalmente in condizioni di disabilità, e che quindi si trovano ad aver in realtà fornito una giustificazione per un'alta ISEE, piuttosto che aver fornito la sicurezza. Quindi abbiamo che un disabile ormai senza il supporto familiare sembra ricco, in realtà ha magari accumulato un patrimonio che doveva servire, nelle intenzioni di chi lo aveva dotato di questo patrimonio, alla sua sicurezza. Nella realtà si troverà a pagare dei costi che magari potrebbero anche diventare insostenibili. Questa mattina alla conferenza dei capigruppo all'emiciclo ha incontrato il vicepresidente della regione, Giovanni Lolli, chiamato ad intervenire sulla vicenda che sta interessando l'azienda produttrice di bevande Santa Croce S.P.A. Riunione dei capigruppo che arriva all'indomani di un incontro al comune di Canistro, in cui la regione ha confermato il nuovo bando di concessione, essenziale per lo sfruttamento delle acque della sorgente Santa Croce. Nodo più problematico della vicenda è l'eventuale salvaguardia dei lavoratori dell'azienda, che rischiano di rappresentare la parte debole del braccio di ferro tra la Santa Croce e la regione Abruzzo. Tutti i capigruppo qui non c'entra la collocazione politica, mi sembrano tutti quanti molto convinti che qui bisogna operare al più presto. Si è anche discusso una cosa secondo me molto ragionevole su iniziativa e su proposta del Consiglio di Nicola, cioè il fatto che noi, siccome l'acqua è uno dei beni pubblici, questo ragionamento vale anche per altri beni pubblici, che noi che è un bene pubblico, qualora la legge che abbiamo dovrebbe prevedere che qualora un gestore di un bene pubblico non paga le tasse, non paga i tributi, cioè non ristora la comunità proprietaria di quel bene di quanto deve fare, questo deve diventare per legge causa di dissoluzione e annullamento della concessione. Dal 23 ottobre torna una domenica fuori porta, giunta la sua terza edizione dopo il successo delle precedenti, a punti di viaggio con vino e sapori autentici, a spiegare le novità di quest'anno, diverse, Alessia Di Giovacchino. Quest'anno ci sarà una doppia partenza dall'Aquila e da Vezzano, ad una settimana di distanza, grazie alla collaborazione con i ristoratori avezzanessi e franciosi e poi sono previste anche escursioni con i bambini fuori portisti. Due calendari, in partenza a distanza di una settimana l'uno dall'altro, dall'Aquila e da Vezzano. Proprio il successo che abbiamo avuto ci ha spinto a proporre un ulteriore calendario, ovviamente incrociamo le dita. La collaborazione che ci rende veramente orgogliosi con Osteria Contemporanea Mamma Rossa di Franco e Daniela Franciosi di Avezzano. Due giornate, due escursioni dedicate anche ai bambini con l'introduzione di fattorie didattiche sia ad ottobre che a maggio e un contest molto molto particolare. La filosofia è sempre la stessa, visitare aziende del territorio ed esaltare i produttori locali, proponendo anche quest'anno cantine inedite per arrivare al mega contest finale che vedrà la collaborazione dell'azienda di Capodacqua di Alfonso D'Alfonso. La sinergia è bellissima e dà la forza di andare avanti perché tanti produttori ormai coccolano noi, quindi vengono loro incontro a noi, all'inizio li abbiamo dovuti un po' spronare, ormai siamo al terzo anno quindi molti addirittura ci cercano e ci chiedono di portare persone da loro. Sono chiaramente realtà più piccole di quelle che si è abituati ad immaginare e a visitare, perciò consideriamo dei privilegiati quelli che vengono con la Domenica Fuoriporta perché hanno la possibilità di visitare aziende e gli vengono aperte le porte di cantine che di solito magari non sarebbero aperte al pubblico nelle occasioni più comuni. Il contest ci dà la possibilità di rilanciare sui social network e quindi di creare sempre più coinvolgimento e poi grazie alla generosità di Alfonso D'Alfonso e la sua terre del Tirino a Capodacqua di Capestrano il premio finale sarà un pernotto lì per una cena e un pernotto lì per una coppia. Dobbiamo dire che tutto questo continua ad essere possibile grazie al contributo della Fondazione Carispac che non solo ci permette di andare avanti ma ci permette di mantenere dei prezzi calmierati e popolari perché le nostre escursioni sono davvero alla portata di tutti. La parte della comunicazione è curata dall'impresa tutta al femminile di Di Ma, di Elisa Marulli, Alessia Di Giovacchino e Beatrice Di Marco. Fotografo ufficiale degli eventi sarà la giornalista Daniela Braccani.